Oggi, così come era stato fatto per il Dipartimento di Attività Produttive e poi per il Dipartimento d'Agricoltura, è stato firmato dal Dipartimento dell'Energia la convenzione con l'Ordine dei commercialisti. In questa convenzione sostanzialmente l'Ordine metterà a disposizione una long list di commercialisti che saranno utilizzati dalle aziende, dalle imprese, dai cittadini che partecipano ai bandi dei fondi comunitari, per accedere ai fondi comunitari, tutto questo volto allo snellimento della procedura e soprattutto alla velocizzazione delle procedure. Questo è quello che la Commissione UE, la mia Presidenza, abbiamo determinato in questi anni con risultati ottimi già sperimentati per le attività produttive e per l'agricoltura prima e che sta dando già buoni frutti in termini di velocizzazione delle procedure. Al contempo oggi abbiamo iniziato un ragionamento con l'Ordine degli ingegneri e sarà esteso ovviamente anche agli architetti la possibilità che anche essi possano mettere a disposizione le loro professionalità per le aziende siciliane, per i cittadini siciliani, nel momento in cui si approcciano a presentare dei progetti per adire ai fondi comunitari. Questo ci sembra uno dei modi con cui la nostra Commissione sta dando dei risultati concreti per snellire le procedure, velocizzare i sistemi e fare in modo che la Regione sia più vicina ai cittadini e fare in modo anche che le intelligenze, le professionalità, i siciliani lavorano insieme alla Regione siciliana per migliorare le condizioni poi di tutti.